Comunicare Dove si fa violenza all'uomo, la si fa anche al linguaggio. Il termine incomunicabilità non mi è mai piaciuto. Nel mondo normale odierno, che abbiamo chiamato civile e libero, non capita quasi mai di urtare contro una barriera linguistica totale, di trovarsi davanti ad un essere umano con cui dobbiamo assolutamente stabilire una comunicazione, pena la vita e di non riuscirci. Secondo una teoria in voga in quegli anni, gli anni settanta, e che a me pare frivola ed irritante, l'incomunicabilità sarebbe alla base una condanna inserita nella condizione umana. Mi pare che questa lamentazione proceda da pigrizia mentale e la denunci. Certamente la incoraggia, in un pericoloso circolo vizioso. Salvo casi di incapacità patologica, comunicare si può e si deve. È un modo utile e facile di contribuire alla pace altrui e propria, perché il silenzio, l'assenza di segnali, è a sua volta un segnale, ma ambiguo, e l'ambiguità genera inquietudine e sospetto. Rifiutare di comunicare è colpa. Per la comunicazione, siamo biologicamente e socialmente predisposti. Tutte le razze umane parlano. Nessuna specie non umana sa parlare. È ovvia l'osservazione che, laddove si fa violenza all'uomo, la si fa anche al linguaggio. Grazie. 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 Grazie.